Salve a tutti ragazzi, sono Don Di Giovanni, vicepresidente dell'associazione UFS, Unione, Feste, Fere e Sacre. In questo momento di emergenza, Covid-19, tutti gli operatori in dotto feste, fuochisti, gruppisti, service, illuminari, commercianti ambulanti e operatori dello spettacolo viaggiante, siamo tutti totalmente delusi dallo Stato. Perché, dite voi? Perché quando fanno i decreti in TV, parlano di aperture e chiusure, noi della categoria nostra non siamo stati menzionati una volta, signori, e quindi dopo aver pagato tanti anni le tasse siamo totalmente, veramente delusi, delusi e delusi. Guarda, non aggiungo altro e non voglio fare polemiche, signori. Noi chiediamo allo Stato di abolire tutte le tasse 2020, di rimandare tutte le tasse 2019 a fine pandemia e un sostegno dignitoso dallo Stato, 1.500 euro al mese, in modo che le famiglie di tutti i commercianti e gli altri in dotto feste possano vivere una vita dignitosa a fine pandemia. Signor Conte, un saluto da tutti i commercianti, un abbraccio da Don Di Giovanni a tutti voi e speriamo che finisca tutto presto, signori.